Svezzamento e alimentazione infantile, cosa c'è da sapere? Quali miti da sfatare? Un convegno ad Andria organizzato dall'Associazione Mamme e Dintorni, col patrocinio del Comune di Andria, dell'Associazione Moglie Medici Italiani e della FIDAPA, sezione di Andria. Una regola su tutte è emersa a consultare gli esperti. Svezzamento e alimentazione infantile, le informazioni che giungono alle mamme sono tantissime e molto spesso in contraddizione tra di loro. A chi bisogna dare ascolto? Allora, innanzitutto è importantissimo per noi evitare ricorso ai siti internet, ai blog, al parere dei nonni o comunque delle persone che ci circondano, perché soltanto gli esperti, quindi pediatri e nutrizionisti, possono darci informazioni che derivano dal mondo scientifico e che quindi sono basate sulle evidenze attuali. Diamo qualche informazione utile e soprattutto, se qualcuno volesse, dove può reperire le informazioni utili? Allora, innanzitutto sul sito del Ministero della Salute e sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità trovate alcune informazioni, per esempio il dato che non esiste un reale ordine di inserimento degli alimenti, così come si faceva in passato. Prima il periodo dello svezzamento era segnato da tempistiche molto precise, cosa che oggi invece non ha più la stessa validità di un tempo, perché l'importante è svezzare dopo il sesto mese. Dopodiché qualsiasi alimento può essere introdotto, però secondo alcuni criteri qualitativi e di sorveglianza che verranno oggi approfonditi. Ovviamente parliamo di alimentazione infantile anche come necessità per prevenire l'obesità infantile, che purtroppo è un dramma delle nuove generazioni. Assolutamente sì, si è visto che a questo popso l'eccesso delle proteine animali nel primo anno di vita è quello che più correla con il rischio di obesità a 5-6 anni, proprio perché le proteine animali determinano un aumento del numero delle cellule adipose, che poi aumenteranno di volume appunto ai 6 anni. Di conseguenza se vogliamo prevenire l'obesità ai 6 anni, che poi è quella che si porterà al bambino molto spesso fino ai 18, quindi nella fase adolescenziale, è importantissimo curare il primo anno di alimentazione del bambino. E' il primo evento pubblico con cui l'Associazione Mamme di Intorni si presenta alla città? Fino ad ora abbiamo fatto piccoli eventi e laboratori rivolti a mamme e bambini. Questo era un evento un po' più di presentazione, dove volevamo appunto aprirci al pubblico con un tema un po' più delicato, quale è il svezzamento dell'alimentazione infantile, che appunto è molto caldo come tematica per le mamme, soprattutto per le mamme alle prime esperienze. Come nasce e perché nasce Mamme di Intorni? Mamme di Intorni nasce da un'idea di un gruppo di mamme durante un corso preparto, che avevano voglia di confrontarsi tra di loro, poi piano piano abbiamo cominciato a coinvolgere amiche e parenti, e da lì l'idea appunto di costituire un'associazione per diventare il punto di riferimento tra le mamme alle prime armi, quindi sia nella fase di pre-gravidanza e quindi di affiancamento durante la gravidanza, che poi in tutte le tematiche rivolte appunto alla crescita dei bambini e al loro sviluppo, in particolare al mondo del portare i bambini in fascia e quindi del baby wearing, che è una cosa che abbiamo scoperto come mamma casualmente grazie alle coliche di mio figlio, e poi da lì è nata una passione, quindi un'attenzione a questo argomento e la voglia di condividerlo con tutte le altre. Noi utilizziamo principalmente il web come forma di comunicazione, quindi il sito mammedintorni.it oppure la nostra pagina Facebook Mammedintorni Andrea. Patrocino del Comune di Andrea, assessorato alla pubblica istruzione, insieme ad altri enti che da tempo perseguono appunto come finalità quella del sostegno alla maternità. Sì, quando parliamo anche degli altri enti o comunque anche di associazioni, parliamo in questo caso anche della FIDAPA, che assieme anche all'amministrazione e al mondo dell'associazionismo sono sempre impegnati nel sensibilizzare la comunità andriese su degli argomenti molto rilevanti, come quello che viene affrontato oggi relativamente all'educazione alimentare. Grazie. Grazie.